Taranto era una delle città che avremmo voluto abitare con una Feltrinelli, poi causa il Covid e causa ritardi, non eravamo ancora riuscite ad arrivare in città. Poi abbiamo trovato questo bel luogo lasciato da un importante altro operatore della città e abbiamo pensato che fosse il posto giusto per una Feltrinelli. E siamo felicissimi di essere finalmente arrivati in città. Il cuore di tutto quello che avremo saranno libri, ma non solo, abbiamo libri per bambini, per l'infanzia, un grande reparto di saggistica, abbiamo musica con cd e vinili che sta diventando sempre più importante nella nostra offerta e giochi da tavolo. Abbiamo quindi tutto quello che è anche la parte di fumetti e manga, molto interessante per i giovani, il romance, quindi è una libreria che fonda l'assortimento sui libri, ma non solo. La risposta di questa città è emozionante, un grande abbraccio all'arrivo e allo sbarco di una libreria che si capisce non essere solo un esercizio commerciale, ma essere qualcosa di più. Rappresenta un altro tassello nella grande rinascita culturale che già la città sta percorrendo e che noi siamo orgogliosi di affiancare.